E' stato un vero e proprio spettacolo la cena della vittoria del quartiere di Porta Crucifera che si è svolta ieri sera alle Questrian Center. Aperta dal video celebrativo non solo della vittoria ma anche dei tanti anni passati in testa alla classifica delle lance d'oro e soprattutto sui mancati sorpassi che è stato proiettato all'esterno accompagnato da uno spettacolo di fuochi d'artificio la cena ha visto poi sfilare i protagonisti della vittoria accompagnati dall'applauso degli oltre 800 presenti. Il quartiere Rosso Verde ha voluto alla sua festa il sindaco Alessandro Dinelli e tutto il mondo della giostra in una serata vissuta in un clima anche goliardico con la distribuzione dell'edizione satirica del mazzafrusto dal titolo El Polvarone De Colcitrone. Molte anche le premiazioni ed emozionanti sia il saluto del rettore Andrea Fazzuoli che l'intervento del capitano Alberto Branchi che ieri sera ha anche festeggiato il suo compleanno.